Fanny Moon, i migliori eventi, oggi siamo qui a Casalazzara, vicinissimo al comune di Aprilia, perché? Perché c'è la quinta edizione della festa della pizza fritta, ma guarda, ma dire così, ma che vi dico, c'è una festa veramente di due giorni, c'è tutto il paese qui a raccolta perché si mangia alla grande, ma soprattutto ci si diverte con tanta musica live, spettacoli e animazione per bambini. Va bene, detto questo, noi siamo pronti qui per immergerci nella festa, siamo pronti cocchiere? Vamonos, vai yeh, ecco dove ti è, guarda che roba va, eh oh, full up sul contro la crisi, ecologico, ecologico, la festa della pizza, capisci, va piano oh. We're a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted in the scene, as long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, get you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it, it's a shot in the dark, but I'll make it. No, it's a little of you, then shame me, when I am with you, there's no place I'd rather be. All'interno della festa della pizza abbiamo un amico, un grande, Gian Piero. Gian Piero, bentornato a Fanny Moon, ormai sei un volto noto, come si dice. Come stai? Notissimo. Bene, bene, grazie. Devo dire che oggi ci hai portato questa chicca qui, per la prima volta abbiamo esportato la wheel machine in questa zona che si chiama Casalazzara, siamo vicino a Ardea. Però devo dire che ogni volta che metti in atto questo gioiello qua dietro si forma veramente un interesse unico e fantastico. Ma andiamo a capire che cos'è la wheel machine. Questo bellissimo oggetto che anche si può vedere nei particolari, quindi le ruote, i cerchi da 17, ruote ribassate, il carrello tutto completamente rivestito con mandorlato in alluminio, chicco di riso. Mandorlato e chicco di riso? Se nemmeno chef! Così si chiama però. Insomma, vari particolari fanno di questo carrello il cosiddetto wheel machine ed è praticamente il simulatore di impennata. Così sembra un videogioco, ma non è un videogioco perché qua è tutto vero, la moto è vera. La moto è vera, è un Suzuki, è un GSX 600 e praticamente la moto impenna, impenna in totale sicurezza rimanendo poggiata sul carrello. Voglio dire una cosa importante, si parla di impennate con le moto ma si parla anche di sicurezza stradale. Io da motociclista quali sono, anche tu Gian Piero, amante delle due ruote, dobbiamo dirvi sempre comunque che se amate le moto non vi mettete a fare le impennate per strada perché è pericolosissima per l'amore di Dio. Soprattutto, ecco, provate queste cose che sono importanti perché sono delle giostre in sicurezza dove uno si può divertire e si può anche esagerare perché tanto non succede niente. Non impennate sulla strada ma avvenite ad impennare sulla wheelie machine. E come si fa a trovarvi? È facilissimo, basta andare sul vostro sito, il Facebook, com'è? Noi abbiamo un sito in costruzione ancora perché siamo nati da poco e però c'è la nostra pagina Facebook che è wheelie machine simulatore di impennata dove abbiamo già tantissime adesioni di gente che ci chiede le nostre date e ci viene a trovare e niente, insomma, comunque un numero di riferimento anche per chi volesse prenotare la nostra macchina come attrazione al proprio evento Adesso vi do il numero della wheelie machine che è il 347 7853 859 E mi sembra che abbiamo detto che un parecchio e soprattutto, ecco, se volete dai gas, datelo qui perché conviene, vi divertite, non succede niente E poi è una cosa nuova quindi ci tengo a dirvelo, è un brevetto, tutto l'oro, la unica in Italia, contattatevi perché qualunque evento esiste la wheelie machine ci potrebbe essere Bene, però vediamo pure come funziona Sì, ok Eh, dai Grazie a tutti